L'ecco pericolosa per i centauri, o forse sarebbe meglio dire con un numero di incidenti sulle due ruote particolarmente elevato, probabilmente anche in forza dei numerosi motociclisti che scelgono il lago e la Brianza per una gita fuori porta. Più sicura per i ciclisti, e in questo caso bisogna sottolineare come l'uso della bicicletta non sia esattamente un'abitudine sulle nostre strade. A parlare in ogni caso sono i numeri. Con un sinistro ogni 1.305 abitanti, la Lombardia è al quarto posto nella classifica delle regioni con la più elevata densità di incidenti con moto, trainata dalla provincia di Milano, che è nona a livello nazionale. Alle spalle della provincia meneghina si posiziona però l'ecco, dove la frequenza di incidenti che hanno coinvolto moto è stata di un sinistro ogni 1.556 residenti, 26 posto in Italia. Sono i risultati di un'analisi fatta da DAS, compagnia di Generale Italia specializzata nella tutela legale su dati Istat. A seguire, nella graduatoria Lombarda, si posizionano come Monza-Brianza. La densità di sinistri che hanno riguardato le moto è elevata anche sulle strade bergamasche e varesine, mentre inizia progressivamente a diminuire nelle province di Sondrio. Dato quest'ultimo che in realtà stride con la cronaca di questi giorni, solo nell'ultima settimana hanno perso la vita tre motociclisti valtellinesi. Le strade più sicure a Mantua, Pavia e Lodi. Riguardo al solo cinquantino, la provincia di Bergamo, con un sinistro ogni 3.096 abitanti, è la provincia lombarda con la più elevata frequenza di incidenti, nonostante il loro numero sia ridotto del 40% tra il 2007 e il 2016. Incidenti dimezzati, meno 53% in provincia di Lecco e in calo, anche a Sondrio. Nonostante in regione il numero di incidenti sia calato del 69%, la Lombardia è tra le sei regioni italiane più pericolose per i cinquantini, con una frequenza di un sinistro ogni 4.913 abitanti. Infine, Cremona risulta essere la provincia lombarda più pericolosa per chi si sposta in bicicletta, mentre i ciclisti possono pedalare relativamente più sicuri a Lecco, un incidente ogni 3.326 abitanti, e a Sondrio, uno ogni 3.563 abitanti.